La filosofia della nostra Accademia, beh, penso che sia unione, sia condivisione, sia soprattutto sacrificio. La Castro Accademia è possibilità, un mezzo e modo per poter lasciare qualcosa alle ragazze che sono venute qui con noi. Il contesto e in particolare una giornata viene dedicata al cammino, un cammino che non è soltanto socializzare, ma anche per poter lavorare con il nostro modello di intervento di mental coaching in natura. Questa Accademia insegna i bambini a superare i loro limiti, a superare la stanchezza, a imparare tantissime cose nuove. Sai, loro si allenano due volte al giorno, qui loro diventano professionisti. Ci avvariamo della mindfulness, in particolare quindi un allenamento a portare l'attenzione nel momento presente. Abbiamo deciso insieme a Castro di far provare a tutti quanti i bambini che partecipano a questa settimana alla Castro Academy il wheelchair rugby in carrozzina. Tutti i bambini capiranno cosa vuol dire utilizzare una carrozzina, essere su una carrozzina e divertirsi utilizzando una carrozzina. Noi insegniamo il valore di tutto quello che facciamo e penso che questa Accademia sia speciale per quello, perché non si concentra solo sul rugby, sino sulla persona. Noi qui lavoriamo il mindfulness perché è importante che le persone siano mentalmente, fisicamente, ma spiritualmente e stiano bene. Ma non solo per giocare bene al rugby, ma soprattutto qui insegniamo alle persone a essere campioni di vita, non solo campioni di rugby. Ma non solo per giocare bene al rugby. Adesso. Grazie a tutti.